Basta, vedi fatto punti, fatto visto Questa free ball qui 1-4 2-4, battuta Puoi anche fare già un flotte 2-5 2-6 3-6 3-6 3-6 Nessuna free ball Ma chiaramente lo scontro è fra i giocatori di destra in questo esercizio Ok? La migliore differenza punti in caso di vittoria da parte di tutti è il giocatore di destra che vince Palla La palla è fuori, peccato, però l'idea è eccezionale Palla 4-6 Buona Fuori asta 5-6 L'alzata è corretta Ricordati che quando gira dietro da lì è destro Quindi è meglio che se la palla gli stai un po' più aperta 5-7 Dobbiamo coprire di più questo centro del campo Non fanno cut Palla Vi coprite diagonale e a caso in stacco Quindi c'è bisogno di coprire meglio la linea e il centro del campo Quindi non c'è più nessun problema che vada in diagonale per davvero 6-8 Palla Io Apri Riporta bene l'appoggio, non lo far fino in altro quadrante che non è giocabile in questa maniera Esatto Questa palla L'invasione avete 7-9 È stato tutto attentissimo Palla Qualità sul primo appoggio Giusto 7-10 Buona 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 8-10 La vicina Te l'aspettavi un po' più alta No No Giusto così Oh finalmente Non la sbracciare 9-10 Scusami per l'appoggio Questa 9-11 10-10 Buona 10-11 Tutto giusto 10-12 10-12 10-12 10-12 11-11 11-12 Il rincorso è al contrario La palla è fuori di conseguenza 11-13 11-14 11-14 Palla 11-15 11-15 12-15 12-15 Meglio l'appoggio Devi guadagnarti il campo 12-16 Doppia 13-16 Poggio terribile Palla 14-16 Palla 13-16 14-17 14-17 Sì 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 Alici 14-18 Palla Sì 15-18 Paggiano 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 Battuta cartapari Palla 16-18 signori tre punti cambio palla diretto basta fare mezza palla e mezza ricezione 16-18 16-19 sacrificio su appoggio alzata perfetta chiudiamo 16-20 21 complimenti